Struncata dai carabinieri della compagnia di Cassino, una fiorente attività di spaccio. Otto le persone arrestate nella città martire a Napoli Secondigliano. L'indagine è partita dopo la morte per overdose di un tossico dipendente di Cassino nel 2015 e ha consentito di portare alla luce, grazie ad un'attività tecnica certosina, attraverso una serie di sequestri di droga e alle testimonianze raccolte da diversi acquirenti che il suo delizio aveva allestito nel Cassinate una vera e propria piazza dello spaccio che si approvvigionava dello stupefacente in Campania. Gli arrestati dovranno rispondere del reato di detenzione, fini di spaccio, di eroina e cocaina. Le ordinanze sono state eseguite due a Secondigliano, Napoli, dove c'era l'approvvigionamento della sostanza stupefacente. Sei sono state eseguite a Cassino. Di queste sei su Cassino, due soggetti, un uomo e una donna, già si trovavano in carcere per una precedente attività di indagine. L'attività che è partita a seguito della morte di un giovane nel novembre 2015 ha permesso di disarticolare questo sodalizio, di portare nel corso dell'attività al sequestro di 150 grammi di eroina, 100 millilitri di metadone, materiale vario da taglio, nonché di assicurare alla giustizia due spacciatori arrestati in flagranze di reato, altri quattro denunciati a piede libero e di permettere la segnalazione al prefetto di un certo numero di assuntori di sostanza stupefacente. Metodo classico di indagine, quindi utilizzo dei telefoni ambientali. I soggetti che sono stati tratti in arresto utilizzavano per le comunicazioni un linguaggio criptico, utilizzavano Whatsapp, utilizzavano Facebook, utilizzavano schede telefoniche intestate ad altri soggetti, è stato documentato che qualche soggetto era anche extracomunitario che non siamo riusciti a identificare, potevano essere utilizzate anche più schede intestate dalla stessa persona tra queste che sono state arrestate.